Siciliacque è reso noto che il guasto riscontrato dai tecnici della società di sovrambito all'acquedotto Fanaco è ancora in corso di riparazione. Per questi motivi la regolare distribuzione idrica da parte di Siciliacque nei comuni di Canicattì e Casteltermini non è stata ancora ripristinata, per cui la turnazione idrica subirà ancora delle limitazioni e quella prevista per i prossimi giorni ulteriori slittamenti. La distribuzione, dicono da Girgenti Acque, è stata comunque garantita e continuerà ad esserlo, seppur in maniera limitata, nei comuni a Canicattì utilizzando l'acquedotto Teresorgenti per approvvigionare i serbatoi di Bastianella e Madonna della Rocca a Casteltermini utilizzando la fonte alternativa proveniente dalla sorgente Chirumbo di recente potenziata grazie ad un intervento di Girgenti Acque. La distribuzione tornerà regolare non appena Siciliacque avrà ripristinato l'ordinaria fornitura idrica ai comuni interessati, ristabilendo la funzionalità dell'acquedotto Fanaco, tenendo in considerazione che per la normalizzazione saranno necessari dei tempi tecnici. Tutto questo con il silenzio complice dell'amministrazione comunale di Canicattì, del sindaco Ettore di Ventura, dei suoi assessori del Consiglio Comunale che non muovono dito contro Girgenti Acque per i disservizi idrici che si registrano in città.